ciao ragazzi oggi è martedì 23 luglio 2024 stiamo andando a Bayreuth finalmente solo che quest'anno facciamo come nel 2021 praticamente un viaggio diretto fino a Bayreuth però avremo la possibilità di filmare tante cose spero tra cui appunto vedete siamo qui al parcheggio vicino a Pian San Giacomo ecco qui siamo vicino ai gabinetti adesso spero che questo cellulare purtroppo non è il massimo della della precisione della qualità però qualcosa si può fare un saluto da qua adesso pucua vedete parcheggio ciao ciao